o cosa c'è lì e un po di telecronica su ci siamo girati e qua c'è suo fratellino anche lì dietro va oh la vedi che c'era il quarto posto poi c'è un altro lì questi qua sono sanissimi uno qua e uno qua ci sono due anche lì? no no oh bello questo bello al buccietto wild action ho paura wild questo è wild dedicato a bruno oggi se ne trova uno qua uno dopo due chilometri non può sempre mica andare bene come gli scorsi video salve 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 qua si rampa sempre e si scova mossa peccato ho staccato un pezzo di gambo peccato peccato bellissimo bello bellissimo nebbia ciao ragazzi fate una fatica a venirci di qua però c'è un tombolotto abbastanza mangiato anche dalle lumache c'è ancora qua ecco la lì il lumacotto che ha mangiato tutto la natura la nascita di un ruscello dove tutto nacque salve signore buonasera non siamo qua siamo messi ma questa è nostra siamo a Osta siamo a Osta qua o siamo a Pratizzano Beach ecco che ho già rotto il gambo ma dove va scusa è un uccanico un uccanico è un uccanico è un po' più fresco scusa cosa cosa abbiamo qua cosa abbiamo qua guarda di che fila, tira su che sennò questi vedi del cazzo non li fai ho tirato il bastone, questo qua sarà 2 kg guarda questo, bello andato, guarda qua, che belli quelli guarda qua, oh la ci siamo sono due qua scherzone, questo qua è matto ma questo secondo me no questo è mica tanto matto questo non è matto uno qua, uno la, pian pianino tutta roba nata da un bel po' come è sotto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti